Tanta carne al fuoco nel processo Sanitopoli, orfano della deposizione più importante di giornata, quella dell'ingegner Carlo De Benedetti, chiamato in causa ad Angelini come manovratore della svendita, così la definita all'ex patron di Villapini, del suo gruppo da parte dell'allora presidente di Regione Ottaviano del Turco. Mattinata però, focalizzata sulla Porsche Cayenne di Luigi Conga, ex manager dell'ASL di Chieti, all'interno della quale venne trovata dai finanzieri una valigetta con circa 100.000 euro in contanti, secondo la procura a provento di tangenti. Depone l'ex nipote acquisito di Conga, Antonello Ricapito, medico legale dell'ASL di Chieti, intestatario dell'autovettura ma presta nome, secondo le accuse della procura. Ricapito, marito della nipote di Conga, ha dichiarato che i soldi per acquistare e mantenere l'auto li avrebbe ricevuti dallo zio, con il quale condivideva, ha detto, il sogno di possedere quel tipo di vettura. Tutto falso, ha risposto Conga durante la sua dichiarazione spontanea. Ricapito, mente sapendo di mentire perché mosso da rancori familiari nei miei confronti. Conga ha poi dichiarato che i soldi trovati nella vettura erano i suoi, 113.000 euro ha precisato, tutti in contanti e tutti dimostrabili, ma di non essere il proprietario dell'auto acquistata dal nipote, coi soldi, ha detto, guadagnati in nero al di là degli 80.000 euro di compenso ASL. All'epoca, ha dichiarato Conga, ero impossibilitato a guidare. Non avevo motivo dunque di comprare l'auto né di nasconderne l'acquisto. Anzi, l'accordo con mio nipote, ha continuato, prevedeva la concessione del mio box in cambio di qualche giro sporadico con la macchina. Nell'altra dichiarazione spontanea della mattinata, quella di Bernardo Mazzocca, l'ex assessore alla sanità ha voluto dare la sua versione dei fatti rispetto alle dichiarazioni di Luigi Perangeli, ascoltato dal collegio pescarese nelle precedenti udienze. Mazzocca ha battuto sul fatto che sia Angelini che lo stesso Pierangeli abbiano dato addosso alla giunta del Turco e dall'operato del suo assessorato, prova, ha detto, che non guardavamo in faccia a nessuno nel risanamento. Infine, nel pomeriggio, largo spazio alla trattativa di vendita di Villapini alla cordata HSS Petruzzi. C'erano enormi problemi di bilancio, ha detto Petruzzi, attuale affittuario di Villapini Ospedalità, rispondendo alle domande del PM di Florio. I debiti fiscali e i contenziosi con il personale erano altissimi, così come il rischio amministrativo legato alle inappropriatezze, che Petruzzi riscontrò anche analizzando le cartelle 2007, dove risultavano ricoveri sullo stesso letto fino a 12 volte. Nei primi mesi del 2008 incontrai i vertici della regione a Roma, presso il bolognese, ha detto Petruzzi, per sapere qual era la situazione della sanità e valutare meglio l'acquisto di Villapini. Del Turco mi disse, ha continuato, che considerava Angelini un cancro dell'Abruzzo e che avrebbe ben accolto un cambio di gestione. Cambio che non arrivò mai, visto il rifiuto da parte della famiglia Angelini dei 45 milioni offerti per l'acquisto, a fronte di una richiesta di 180, e visto il successivo fallimento del gruppo, le cui sorti si decideranno a settembre. Grazie.